Ma non puoi provarlo ad usare mid.top? Sì, posso provare ad usarlo mid.top, infatti sarà un'alternativa più avanti, in caso. Ok, prendiamo i barattoli. Bello che non dodgiano su barddc, ma molto bello che nessuno abbia detto nulla, cioè nessuno in chat ha detto tipo barddc, no 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 no, tutto ok, tutto ok. Static per waveclear, ma no, a me non serve un cazzo il waveclear ragazzi, a me serve far danno ai miei amici, o per dire compagni. Quindi facciamo il kraken, la guinso, cose che diano danni ragazzi, io direi kraken collector infinity oppure kraken runan infinity, insomma qualcosa che ci... oppure kraken danzatore fantasma. Sì sì sì, cose che danno attack speed, è critico, dobbiamo fare danno ai campioni, non ai minion, il waveclear non serve. Vediamo. Ma c'è Tryndamere bot? Ma che cos'è sta merda? Stanno trollando di là. Ma che cosa sta succedendo? Vedete i spell come scalano, AP, AP, e basta. Ha anche la passiva AP. E niente, parte l'hinting da parte della squadra nemica, di già. Sede che hanno litigato in champ select, non so. Ci sono i tradimenti. Forse era meglio lasciarlo andare back. E come facciamo? Sta comp è reale. Sta comp non è reale, è illegale proprio. Che cazzo succede? Mora dai, non ci credo. Ma crittato, bastardo. Ragazzi, ho un brutto presentimento per questa partita. Le kill le hanno fatte i miei compagni e non io. Io non ho preso neanche un assist. Ho la runa quella che mi dà più soldi se faccio kill o assist. Mi è andata top. Un brutto presentimento, ma perché i nemici stanno trollando. Cioè, sono tre bot lane. Che merda. Farai 25 live di fila vista, GG. Le sue spell sono una si AP. Porca troia, raga. Che schifo. Oh, ma sto bard a sta partita 2 è proprio sfigata, eh. Però comunque dai, Nico mid sta avendo lo sopravvento sul... Ma perché sono ancora tre? Mannaggia. Già, ho un champion di merda. Un support di merda che non mi aiuta. Il team è arrivato a gankarmi solo quando sono morto per rubare le kill. Porca troia, raga. Io non ci sto credendo che succeda sta roba. Come devo fare? Questo mi ruba i minion. Beh, o meglio, non l'ha assettato né io né lui, perché l'ha attaccato male. Disastro, veramente. Questa partita è surreale. Tre bot lane. Come è possibile che siano d'accordo in una duo Q al massimo? Non è che per sbaglio ha startato normal. Magari ti conosce così, un volcino in alive. Tu lo faresti, Epinorca? Non penso che qualcuno che mi segue lo fa. Ferebbe una roba del genere. E siamo tre contro tre, ragazzi. Che vogliamo fare? Sì. Ah, schifo. Ok. Vabbè. Io non posso fare niente ragazzi Per quanto lo attacchi Comunque Trinda non lo uccido Come sappiamo bene Bard purtroppo non è certo Il campione giusto per Affrontare dei pericoli così grossi Avesse avuto un qualsiasi Altra DC magari gli facevo del danno Ma qua non posso fare proprio niente Che disastro Che disastro Non avevo mana per fare la Q ragazzi Me l'ha rubata così Porca troia Ho fatto ulti Ho fatto flash Ho fatto tutto quello che potevo fare E me l'hanno fottuta davanti agli occhi Io veramente non ho parole Non ho parole Questa partita è una sofferenza unica È devastante Eh ma io non ho rubato nulla Ehi Pinorca Quindi non puoi dire che io abbia ferito di rubaggio Che non ho rubato proprio niente a nessuno Ok Facciamo le scarpe attack speed Che possono aiutare un poco Vediamo un po' Mi sta venendo il dubbio se fosse ranked Ma sapete che sta venendo il dubbio anche a me Non è che ho startato Eh no ranked solo È una ranked solo questa ragazzi Eh il bard politico Tassava molto Certo Era un dovere Che aveva il popolo Nei confronti del bardo I politici si pagano ragazzi Si fanno pagare bene Cioè Lavoro dignitoso È pieno di responsabilità Meno male guarda Stava arrivando a rubare Stava arrivando a rubare Comunque siamo a due kill dai Finalmente abbiamo fatto qualcosa Adesso quando inizieremo ad avere un po' di critico Faremo di più Andiamo back Compriamo le scarpette complete Oppure questo Cioè ci manca ancora un po' Purtroppo per questo Facciamo scarpette e questo Abbiamo più mobility Più attack speed E più danni on hit Magari può aiutare E appena finiamo il kraken Iniziamo già a fare un po' di più di danno Poi facciamo Anche qualcos'altro Vediamo Please report Rinda for trolling Ah dopo un'ora Finalmente Eccolo qua Il report Si sono svegliati Va bene va bene Dai ragazzi La partita è ancora da giocare Comunque i miei compagni Non sono così tanto fiddati Quindi c'è ancora la possibilità Di poter fare qualche kill Ok Ok Ma purtroppo ci inchioda Eh niente È arrivata a vita dietro al muro Puttana lei Forse quando avremo più Più gold riusciremo Cosa ti danno i cosi che raccogli? Mi danno dei potenziamenti Che sono scritti nella passiva Ok Sto pensando di vendere le pozze E prendere questo Potrebbe aiutare un po' In sostanza più ne hai Più hai agli attacchi Quelli che fanno danno A dare diciamo E E rallentano i nemici Pensavo a DAP No no Ti danno Ogni 5 Si potenziano Ogni 5 raccolti Ah 5 raccolti E slowano A 15 raccolti Slowano E fanno danno anche in un'area Dietro di loro E a 35 L'area diventa più ampia E per ogni uno che raccogli Aumenta il danno che fai E la quantità di attacchi Che puoi fare Di questo genere Tipo intorno ai 100 Sono tipo 5-6 attacchi Di fila così Ciao Marco Buonasera Ragazzi vi chiedo perdono Questa non è la partita 2 con bard Questa è la partita 3 E non si potenzia la grafica Ma purtroppo non Non funziona il programma Non fa niente Ok siamo a 30 35 l'area diventa più ampia Vediamo un po' Io ci sono Io ci sono L'ho presa ragazzi Ho preso lo shutdown GG Meno male E mi prendo anche L'ha preso Nico No ragazzi L'ho presa io però lei Bene dai Volevo prenderlo io l'occhio Per andare a fare la torre in solo Però fa niente Guarda Mannaggia Che schifo Comunque Dai 4 kill con bardo Ce la possiamo fare amici Qua c'è velkotz Da qualche parte 5 kill con bardo 5 kill con bardo Un'alleranza è stata uccisa Vole razzo fiume Presa Mamma mia ragazzi L'ho ultata per non farla morire dal fungo di Timo E per prenderla io ragazzi Questa è stata una genialata Peccato Questo è stato un po' to match La grafica nei nostri cuori Oggi il codice è missa? No questa grafica non la fa codice Lo fa il programma Ciao Joe Buonasera Ben arrivato Un nemico è stato ucciso Un alleato è stato ucciso Nel senso che non è presente Ragazzi Non ci sarà mai un giorno In cui il codice non sarà presente Altrimenti perde la streak E vince It's Toy Dovreste chiedervi piuttosto Se It's Toy è presente Attenzione Vediamo se riusciamo Bene Sette ragazzi Sette Bravo tank WP bro The carry And the ranocchio Ho visto Una cosa lì da raccogliere Una nota Siamo a 40 note raccolte Vediamo un po' Come stai Marco Donalds Spero tu stia bene Prendo io le cure ragazzi Sono io il carry Mi autocuro Mi devo autosostenere Perché il mio support è Timo di merda Però in realtà Timo con i funghi Può dare fastidio Lo vuole la gente Mette danni nel tempo E io la steal Non male Non male Stavo pensando che forse il tarlatore poteva essere una play Una giocata Siamo a 9 ragazzi Broken Sottolineatura Ninja Sottolineatura Ha dimostrato la fedeltà al canale Bravo broken ninja Dimostra la fedeltà al canale Solo i più fedeli lo fanno Ti faceva e qui scoppiavi lo stesso Ma no Io lo schivavo Poi doveva farmi vedere una roba Il calcio Il calcio Pisa Livorno Dovresti fare un lavi di pochi secondi Senza avvisare nessuno Così che risetti le stricca a tutti E no ragazzi Veri Chi ti vuole bene ragazzi Ti segue sempre Tutte le sere Tranne il sabato Alle 22 Attenzione 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 Picchiati Picchiati Sto morendo cazzo No Mastery non andare a ucciderli E' pericoloso Ah pensavo che l'avesse uccidere con un pugno Bene ragazzi Presto l'infinity arriverà Ma Trinda sta facendo solamente lo split pusher Guardatelo che stronzo Greivolf Sottolineatura NBK Ha dimostrato la fedeltà al canale Bravo anche tu Greivolf Anche tu hai dimostrato la fedeltà al canale Molto bene ragazzi Cliccate quel pulsante Dimostrate fedeltà Alzate le vostre spade E offrite i vostri cuori Se facciamo questo I cavalieri del santo rap Il santo Devo risparmiare i miei punti Per cosa Alisius Ma se tu sei fedeli I punti li rifai Per 100 punti Puoi dimostrare fedeltà Ehi ciao No Ma cosa È successo Peccato Quella via rompe tanti coglioni Bravo nonno Benjo Mi chiamo Jennifer Buonasera Ma ben arrivati Oh ma spero Siate molto pronti Avete fatto delle cose molto belle Con la nostra amica Sesso Benissimo Questo è l'importante Che tipo di sesso Oh si Le spade di build Sesso sesso Qua stiamo facendo Un bard full critico Ragazzi E devo fare 30 kill Come vedete Là in alto a sinistra Z30 kill Devo fare 30 kill Con tutti i champion del gioco E non so come cazzo Farlo con bard Questa è la partita 3 Anche se là in alto C'è scritto partita 2 È la 3 Perché è maledetta Questa 2 Ieri Mi cambiava continuamente La grafica Cosa sai di billi belle E delle Tavole Non so niente Non la conosco Sto bene Jennifer Sto bene Spero sia bene anche tu Sono stato al sushi Oggi con la mia ragazza E dopo Le ho detto Andiamo al sushi Così poi me lo sushi Vediamo se sarà così Allora Andiamo A uccidere questo Tenda che ha rotto il cazzo E non gli possiamo lasciare La T2 Non possiamo ragazzi No No In faccia no Trinda in faccia no Oddio Beccati le mie campanelle Sì L'ho preso io 11 kill Bene ragazzi Le 30 si avvicinano Ok No Quei arrenditi No no Non c'è resa Secondo voi Chi è che vuole arrendersi Timo che è appena morto Al solito chi muore Vuole arrendersi Buona trenta Mi vado a gancare una cucciola Buona Buonanotte Ciao Jennifer Come sarà con leona Ma con leona forse Sarà anche semplice Guarda che quando ho fatto La z pentale Ne facevo un sacco di Di kill con leona Però non riuscivi a farne Cinque insieme Sono due tipi di difficoltà Diverse Fare 20 kill E fare 30 kill 20 kill Devono essere tutti gruppati Devi trovare un po' La partita giusta Per quella cosa lì Invece 30 kill Devi trovare la partita lunga Questa sembra abbastanza lunga Non l'ho presa Porca troia Si sente che ancora Non ho l'infinity Ma quando lo avremo ragazzi No no basta pushare Stop Ho fermato ragazzi Oh attenzione arrivano i ragazzi Ho fermato Il push E Pino Cosa fai? Non si pusha Basta pushare Meno male Meno male Fare già le torri Dell'inibitor È un po' Too much C'è un 5 gold lì Andiamo a raccogliere Le musiche Qui Le note Ok Siamo a 11 kill Asteri ci riprova Uno vive uno su Trinda Perché scappa? Ma Trinda probabilmente Non ha la R Brother Ah porca troia Ciao Ti curo E me ne vado La nota La nota Ah cazzo No Cazzo Cazzo C'è Chi è che ha tippato lì? Scusate l'urlo Adesso ci riprendiamo Peccato ragazzi Peccato C'erano un sacco C'erano un sacco di nemici L'intorno Ma cazzo Ma loro hanno preso Tutti i draghi No eh Secondo me Qui è necessario Presso il collector Fanno danno fisico? Fisico Magico Fisico Fisico Magico È stato vigore puro È stato terrore In realtà Ma chi cazzo Se l'aspettava Che dietro al muro Erano lì pronti A farmi E aprirmi Pronti a infilare Le palle nel culo Attenzione Ecco ruba il Baron Senza lo smite Perché è il mid laner Io non l'ho preso il Baron Perché ero morto Per un secondo Ecco di merda Non rispetta i Death Timers Dei suoi compagni E questo è quello Che succede Ho l'infinity baby Piango Arrivo baby 13 kill Oh sì Così urla E piangi Come è uscito Quell'urlo Con quella voce Così mascolina Non lo so Meno 53 Oddio ragazzi No Devo arrivare a 30 kill Non ha 53 più 13 Non ha 66 Ma che state a dire Sai che qualcuno qui sa contare Proprio male Se no runan Ci può stare No ragazzi Ci serve difesa Dobbiamo anche Non morire E se così siamo In vita di più Quindi prendiamo Ruba vita Se no stavo pensando Due begli item da tank Così non ci ammazzano più Ho visto un sacco di bard Fare gli item da tank Ultimamente Nessuno ha il collector Dei miei Meno male Meno male Allora L'ho preso lo stesso Cioè ci sono passate attraverso Non ho capito Questi portali Aspetta vediamo un po' Lì c'è una Una cosa La prende Ma è broken La prende col varco Ma chi è che sta Usando le sue nafiche qua Andiamo No 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 Timo È Una cosa c'è Da non fare Da non fare Andiamo a fare il drago We can Let Them These Dracke We can't We can't Can't Eh Grazie Ciao Crazio Grazie per farlo Benvenuto Cugino ma se nel sito Mettessi una descrizione Per ogni item A cosa serve Eccetera Eccetera Le descrizioni Degli item Ci sono già Su LoL Devo farle io Sul mio sito In che senso Mi scusi Si sbieghi meglio Abbiamo 63 campanelle Comunque Tra poco Arriviamo a 69 Poi ci fermiamo Non mica loLWiki Eh infatti Mica è una wiki Cioè È un sito Di troll build Che all'interno In che situazioni Farle È un po' Troppo Ma perché sono andato Back Mi sembra Un po' Troppo Inutile Non lo so Uh Grazie mille Best viewers Thank you Very much No Non uccidete gente Non uccidete gente Sono pronto a oltare Per salvarli Raga Siamo a quel punto Della partita Dove dobbiamo sperare Che il nostro team Perda i fight Non così tanto Ops Merda Li ho visti tutti Esplodere Ma chi è che di loro All'esplode i build Oh oh Non subisce danno Oh 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 c'ho A ciò che chiedi Oh oh Ancora c'ha l'ulti questa Aiuta Mi stanno Mangolando Ma perché i masterie Là Why E top Stay In mid Bro Aram La regola dell'iron Dove siamo Io non ti considero nemmeno Ma vi preme a R Fa quel cazzo che vuole C'aveva ancora C'aveva ancora la ulti Sta bug Io direi fallo Ma metti in descrizione Tipo infiniti Così puoi metterlo a culo Con più critico Ah quindi descrizioni troll Ok No veramente Cos'è che intendeva Ginny Intendo anche situazioni farle Ah ok vabbè Ma per quello si fa un video Ragazzi Gli item Possono cambiare Anche spesso E non è che ci sono item Che vanno fatti In certe situazioni C'è Esempio Non è che in questa situazione Oh hanno armor Allora facciamo la black liver No perché il mio campione In questo caso Non è un campione Che la sfrutterebbe bene Devo curare Ragazzi Ho perso tutta la vita Cosa fa mastery Peccato non l'ho presa io Ragazzi sono a 15 kill Sono la metà Facciamo il baron Anzi no Non facciamo il baron Ma cazzo lo fanno Vabbè dai Meglio che vincere il game Io sono sventra mona Ok allora Ehm Danni Resistenze Resistenze Possiamo prenderci Lord Dominic Hanno armor Loro no Lei un po' Lei tanta Oppure ci facciamo Ancora più ruba vita E restiamo in vita Ma non è il developer Sta studiando in freddo È solo che ragazzi Pensate a questo Cioè Ci si mette il nome Dell'item Sul sito Non serve altro Cazzo Dai no Tam Kench Sei una merda Che schifo raga Non ho preso neanche una kill Su questo team fight Ma porca troia Ecco di merda Perché Perché sei recollato Me lo spieghi Dio mio Perché Neanche una kill Ragazzi Mamma Che schifo Di squadra Porca troia Con il drago Rischiate di più chiudere No per fortuna È un drago di merda Ragazzi Purtroppo La Z30 Che l'abbiamo capito Che la vera difficoltà Cioè Noi siamo contro I nostri stessi compagni Cioè A differenza della Z30 Dove sì C'è il rischio Che te la stilano Però Nel senso Il problema qua Sono i propri compagni Molto di più Che nella Z30 Vista fermo Ancora la ulti Porca troia Una kill Ho fatto In 5 minuti Mannaggia Ma avevano ancora tutto Nico aveva la Zonia Eh Xai aveva la ulti No Sono abbastanza tank Per sta gente Che si è fatta giustiziare Xai Che cretina Buonasera Killgar Rai È difficilissima La money build esiste ancora So che il sagomland Dà piso la vita Giusto Sì esiste Ma è molto più debole Di prima 5 drag uguali Ebbè Non è la normalità Porto Forse Forse dovrei fare un video Sulle cose base Perché non sono Così ovvio A quanto pare Una volta che esce Dopo il secondo drago Ok Il primo drago è un È a caso Il secondo drago è a caso Il terzo Dal terzo in poi Sono sempre lo stesso drago Sempre 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 Ragazzi Perché la landa Cambia Proprio per quel drago Che esce Rimarrà così Fino alla fine La partita Allora Eh lo so che non lo sapevi Però È una cosa che Sembra Praticolarmente Ovvia in realtà A una certa Comunque Sì Vediamo Porca troia Mastery Stai fermo Porca troia Porca Niente ragazzi Non si riesce All'assettare le kill Sono troppo forti Troppo danno Fanno Schifo Schifo Merda Liquida Ho 14 assist Questo per farvi capire Cosa sarebbe successo Se avessi Se avessi fatto Le kill Vabbè Comunque ragazzi Dal prossimo game Con Bard Per fortuna Avremo La La benedizione Della duo Quindi Molto bene Signor Signor Cromos Hai donato 5 sub Puoi scegliere un pick Vada Quale sarà Questo pick Scelto da te Scegliere un pick